Ciao a tutti, oggi sono qua per farvi la recensione di Robotic Heart di Miriam Ciraolo. Questo libro è lo spin-off di Beauty and the Cyborg, libro che ho già recensito circa un annetto fa qua sul canale, quindi se siete curiosi magari vi lascio la recensione nelle schede qua sotto in descrizione. In generale si tratta di un retelling della Bella e la Bestia in chiave distopica, appunto con i cyborg. È una storia che ho trovato molto originale e nonostante si rifaccia a una storia molto conosciuta come quella della Bella e la Bestia, ha saputo sorprendermi tantissimo, quindi se siete in dubbio o state cercando qualcosa di questo genere, assolutamente consigliato. Tornando invece a parlare dello spin-off, si tratta di un libricino piccino di circa 125-130 pagine, focalizzato interamente sulla figura di Alec, la bestia. La storia parte con un Alec bambino di circa 10 anni quando viene trasformato in cyborg e ripercorre varie tappe della sua vita, quelle diciamo un po' più significative, fino ad arrivare alla fine del romanzo. Devo ammettere che prima di cominciare questo libro avevo solo dei vaghi ricordi riguardanti il romanzo. Mi ricordavo la storia in generale, ma alcuni piccoli dettagli li avevo completamente dimenticati e leggendo questo spin-off sono riaffiorati tanti ricordi legati al romanzo e alla storia principale, quindi è stato bello riscoprire una storia comunque che avevo letto più di un anno fa. Devo dire che è stata una lettura molto piacevole, innanzitutto perché Alec è il mio personaggio preferito di Beauty and the Cyborg, quindi è stato bello ripercorrere un po' la sua vita, la sua trasformazione in cyborg, come l'ha vissuta, come è cambiato il suo rapporto con i genitori, con i fratelli. Entrare un po' più nel suo personaggio è stato per me veramente molto interessante, anche perché si parte da Alec bambino, poi adolescente, adulto, insomma lo vediamo in varie fasi, quindi è stato veramente bello. Non solo riusciamo a comprendere meglio questo personaggio, ma anche il suo rapporto con gli altri personaggi della storia. Inoltre verso la fine lo spin-off si va a intrecciare con la storia principale del romanzo, quindi vediamo la storia dal suo punto di vista. La cosa che mi ha colpito maggiormente è il rapporto che è Alec con se stesso, come si vede e come affronta il cambiamento non solo fisico, ma soprattutto sentimentale ed emotivo. È stata una cosa molto introspettiva, che mi è piaciuta particolarmente, e ho apprezzato anche che si parlasse comunque del suo rapporto non solo con Lullabel, ma anche con Aston. È appena accennato, non tanto approfondito, però comunque presente, quindi mi è piaciuta questa cosa. Un'ultima cosa che vorrei citare è la grafica di questo libro, che secondo me è molto curata, e c'è appunto questo motivo a Rosa che era già presente comunque nel romanzo principale, ma non solo, è intrecciato anche a un motivo più di circuiti, che quindi fa più riferimento al mondo delle macchine, dei robot, dei cyborg. L'ho trovato veramente molto bello e anche all'inizio dei capitoli, veramente molto curato. È un piccolo dettaglio che magari può sembrare insignificante, per me non lo è stato, anzi, mi ha colpito particolarmente, perché è come se fosse un piccolo dossier che raccoglie appunto vari capitoli della vita di Alec. Se avete letto anche voi Beauty and the Cyborg, vi consiglio assolutamente di leggere anche lo spin-off, a maggior ragione se vi è piaciuto il personaggio di Alec, e volete approfondire un po' la sua figura e il suo rapporto con gli altri personaggi. Io ringrazio tantissimo Miriam per avermi inviato il suo libro, e aspetto di sapere la vostra qua sotto nei commenti. Fatemi sapere infatti se avete letto anche voi Beauty and the Cyborg, se avete letto anche lo spin-off, se vi incuriosiscono o meno, insomma, qualsiasi cosa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!